Cari amici, come molti di voi credo stamattina sono rimasto scioccato dalla notizia di Noa, la ragazzina olandese di 17 anni che avrebbe scelto l'eutanasia in Olanda. Probabilmente la storia non è andata esattamente così, Noa era una ragazzina con problemi di depressione, di anoressia, aveva subito due volte abusi sessuali, e non intravedeva la possibilità di uscire da un'esistenza fatta solo di dolore. Tuttavia non avrebbe utilizzato l'eutanasia come appunto si pensava ieri, ma si sarebbe lasciata morire una forma di suicidio non assistito, ma comunque tollerato e accompagnato dalla famiglia, visto che è morta in casa sua. Questo non è che sposti tantissimo i termini del problema, perché il problema qua, al di là del caso di questa ragazza, è com'è possibile che la vita umana nella nostra civilissima Europa inizi a essere disprezzata. Stiamo diventando forse inumani? Io non ho una risposta, la cerco nei libri, come quando non so trovarla da solo, e vi voglio proporre un passo di uno dei miei scrittori preferiti, che si chiama Giorgis Bernanos, lo trago da questo libro di Cantagalli, La rivoluzione della libertà. Bernanos non era un uomo contro la scienza, nonostante le prime due righe che vi leggerò tra poco, era un uomo che era contro l'adorazione della tecnica, che è una cosa estremamente diversa. È un passo lungo e anche difficile, ma credo che dica delle cose in realtà semplici che ci aiutano a capire in profondità la cronaca di questi giorni, e non solo. Abbiamo visto nascere e propagarsi nelle masse popolari la religione della scienza. Essa ha mostrato in prima battuta di non avere altro nemico se non la superstizione, ma non prevedevamo che distruggendo senza distinzione non solo le superstizioni, ma le stesse credenze, essa avrebbe portato a distruggere una credenza essenziale, indispensabile, sulla quale si fonda l'idea di libertà, la fede dell'uomo in sé stesso. Il culto dell'umanità, sostituito alla religione dell'uomo, la cui espressione più alta è quel cristianesimo che ci divinizza, voglio dire che divinizza ciascuno di noi, fa partecipare ciascuno di noi alla divinità, dà a ciascuno di noi, al più umile tra di noi, un valore infinito, degno del sangue divino. Il sacrificio dell'uomo all'umanità, dell'umanità al progresso, per terminare infine con il ridicolo sacrificio del progresso alla dittatura dell'economico. Questo fu il crimine che resterà per sempre come una macchia sulla parola democrazia, la forma borghese della rivoluzione. Bernanò con le sue parole incendiarie sta dicendo qualcosa di importante anche non solo a chi crede, ai cristiani e ai cattolici, ma anche agli atei, ovvero che quel senso di individualità intoccabile e inaccessibile per ogni forma di potere dipendeva anche da quella religione, il cristianesimo, che la modernità ha tentato e tenta tuttora di estirpare, facendo però un danno micidiale alle fondamenta stesse dell'Occidente. e credo che questo non sia un pensiero, come dire, da bigotti, fanatici, io non lo sono, anche se sono credente, ma credo che sia un discorso estremamente valido anche per chi non crede. E quando Papa Benedetto XVI diceva che sarebbe meglio vivere come se Dio ci fosse, beh, intendeva esattamente questo, tu togli la religione e ottieni qualche cosa di inumano.